ok per questo esercizio ci servirà una kettlebell e una panca prendete la kettlebell in mano e posizionatela sul ginocchio da qui aggiungerà il peso che ci permetterà di andare a mobilizzare la nostra caviglia in maniera anteriore quando cercate la mobilizzazione ricordatevi sempre che il tallone dovrà rimanere a contatto con la panca per tutta la durata della mobilizzazione quindi sia quando andrò in avanti che quando tornerò indietro il tallone non si dovrà mai alzare